Ora passiamo all'interrogazione numero 336. Le deputate Vitelli ed altri, concernente iniziative di competenza per il ripristino delle risorse compensative destinate alle comunità locali interessate dalla TAV Torino-Lione. Il deputato Paolo Vitelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente. Signor Ministro, come ben sa, il Cipe ha rimodulato le risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali, relativo a opere di interesse strategico, stabilendo che i 10 milioni di euro previsti per le misure compensative della TAV tra il 2013 e il 2015 vengano ripartiti in due tranche, 2 milioni di euro nel 2013 e restanti 8 milioni nel 2016. Tale decisione sottrae nel breve le già scarse risorse destinate ai territori interessati dalla realizzazione della Torino-Lione. Risulterebbe inoltre che tale scelta sia stata fatta senza informare il Governo, il Commissario Virano, gli enti locali interessati e che parte dei fondi destinati alla Valle Susa sarebbero stati direttati per il completamento del nuovo auditorium Teatro dell'Opera di Firenze. Desideriamo chiedere al Ministro, nell'ambito delle proprie prerogative, se non ritenga di intervenire in tempi rapidi per ripristinare nel breve termine le risorse compensative destinate alle comunità locali interessate dalla TAV. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, ha facoltà di rispondere. Grazie, Signor Presidente. Si ritiene opportuno innanzitutto sottolineare che non rispondono a verità le notizie di stampa apparse ieri su alcuni quotidiani nazionali in merito ad un dirottamento dei fondi destinati alla Val di Susa per le opere di compensazione della nuova linea Torino-Lione, a vantaggio del nuovo auditorium di Firenze. Entrando poi nel merito la seconda parte dell'intervento dell'interrogante del Question Time, preciso che i 10 milioni di euro previsti per le misure compensative per la Val di Susa tra il 2013 e il 2015 sono ora ripartite in due tranche, 2 milioni di euro sul 2013 e i restanti 8 milioni di euro sul 2016. La nuova articolazione temporale delle disponibilità finanziarie sottrarrebbe, a giudizio degli interroganti, le già scarse risorse destinate ai territori interessati dalla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. In proposito, sottolineo che è opportuno chiarire gli intendimenti del Governo, prima Berlusconi e Monti e poi del Governo Letta, sulla continuità tra diverse legislature nel perseguimento degli stessi obiettivi e della consapevolezza della necessità fondamentale di adempiere concretamente a tutti gli obiettivi assunti. Vorrei quindi contestualizzare le motivazioni che hanno portato ad una rimodulazione delle risorse del Fondo Infrastrutture. Nell'aprile 2012, quando il CIP ha assegnato 10 milioni di euro alle opere di compensazione della Val di Susa, non erano ancora operativi tagli lineari all'utilizzo delle risorse determinati da iniziative legislative che ci sono succedute nel corso del 2012. Il Governo Monti ha salvaguardato gli investimenti destinati alle opere di compensazione della Val di Susa. Infatti, nonostante che sullo stesso fondo i tagli lineari abbiano pesato per circa 600 milioni di euro ed abbiano interessato in modo rilevante alcune opere, quelle puntuali relative alla Val di Susa sono state tutelate. Per questo ritengo di non dover intervenire per il ripristino di quelle risorse che hanno conservato ammontare e disponibilità. Approfitto per segnalare che nell'aprile del 2012 la quota parte di finanziamento di competenza del nostro Paese e destinata alla sezione italiana della nuova tratta a Torino-Lione non era ancora disponibile, non era ancora iscritta nel bilancio dello Stato, non era ancora possibile ratificare il trattato internazionale con la Francia. Oggi posso assicurare che la dote assicurata dalla legge di stabilità 2013, disponibilità superiore a 2,9 miliardi di euro, ci consente di sottoporre a questo Parlamento, in accordo col Ministro degli Esteri, in tempi assolutamente brevi, il disegno di legge di ratifica del trattato. Grazie Ministro. Facoltà di replica il deputato Paolo Vitelli. Signor Ministro, mi spiace di sentire che non c'è l'intenzione di ripristinare la spesa a breve. Una delle conseguenze più immediate di questo prodivedimento pubblicato ieri è che stanotte c'è stato un attacco quasi militare di un furgone con degli operai e ci sono stati un ferito e questo potrebbe essere l'inizio di una ripresa dei fenomeni che chiamerai quasi terroristici che si verificano nella zona. La linea ferroviaria Torino-Lione è un'opera strategica per realizzare uno dei grandi collegamenti Est-Ovest che attraversano nell'Europa in particolare il Corridoio 5. Conoscete tutte le problematiche che questa opera ha scatenato e continua a scatenare. Grandi polemiche, tanto perché non è perfettamente conosciuta la sua utilità strategica e l'impatto ambientale creato nei territori attraversati. L'attribuzione di fondi compensativi ai comuni della zona sono determinanti per iniziare a trovare il consenso del territorio. I fondi erano stati assegnati per essere spesi già da quest'anno e per il triennio e i comuni hanno fatto affidamento su queste risorse per programmare opere pubbliche utili anche per dar fiato nel breve periodo all'industria edilizia locale che versa in condizioni prefallimentari. Il rinvio di questa spesa può apparire normale in circostanze normali, ma non nel momento cruciale dell'imminente decisione da prendere dell'avvio dei lavori dell'opera. Non è pensabile, infatti, di continuare a lavorare nei cantieri interessati sotto la protezione delle forze dell'ordine, numerosissime e costosissime per lo Stato. Come adesso avviene, è probabilmente necessario anche rinforzarla in conseguenza dell'avvenimento di stanotte. Confidiamo quindi che il Governo sappia in tempi rapidi dare le risposte che le comunità interessate attendono. Grazie. Allora è così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Passiamo ora, come già anticipato ai rappresentanti dei gruppi, allo svolgimento di un'informativa urgente del Governo sul tragico incidente verificatosi nel porto di Genova. Prima di dare la parola al Governo, desidero esprimere alle famiglie delle vittime, a nome mio personale e dell'intera Assemblea, la più affettuosa partecipazione al loro grande dolore. Ad essi va il nostro pensiero commosso e la nostra vicinanza, che si estende all'intera città di Genova. Al suo sindaco ho già fatto pervenire le più sentite espressioni di cordoio a nome della Camera dei Deputati. Chiedo quindi all'Assemblea di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime di questa tragedia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Sarebbe buona abitudine abbassare le suonerie dei cellulari, per favore. Grazie a tutti. 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 regionale di coordinamento del soccorso, ruolo che pertanto è stato svolto avvalendosi degli apparati radio di comunicazione della Capizianeria del Porto di Savona, quale centro di coordinamento alternato. Nel corso della notte e per tutta la mattinata di oggi sono state proseguite le operazioni di ricerca dei dispersi, sia nello specchio acqueo portuale che nell'area di banchina interessata dal crollo. Il dispositivo di soccorso ha visto l'impiego, oltre a due mezzi aerei della Guardia Costiera, di cinque mezzi nautici e degli operatori dei nuclei subacqui di Genova e Napoli della Guardia Costiera, mentre in banchina hanno operato, in stretto coordinamento sanitario del servizio, 118 vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il mercantile che ha causato il sinistro è stato posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Per l'accertamento della dinamica dell'accaduto e delle responsabilità correlate, oltre all'indagine penale, è in corso anche un'inchiesta tecnica condotta da esperti dell'organismo investigativo di indagine sui sinistri marittimi che opera le dirette dipendenze del titolare del dicastero delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto al mercantile che ha causato il crollo della struttura, si tratta di un porta-container jolly nero che ieri sera era in manovra per uscire dal porto di Genova, diretta a Napoli, per far poi rotta verso una serie di scali portuali del Nord Africa e del Sud della Spagna. La nave fa parte della flotta della società armatrice Ignazio Messina, che ha sede a Genova, composta da 14 navi di proprietà e bandiera italiana, più alcune altre noleggiate, tutte specializzate nel settore della movimentazione di container. La jolly nero, realizzata nel 1975, ha una stazza lorda di 40.594 tonnellate ed una lunghezza di circa 240 metri. La parte poppiera presenta un'imponente sovrastruttura che ha impattato contro la torre di controllo. La torre di controllo, costruita e realizzata alla metà degli anni 90, era alta 50 metri ed ospitava la sala di controllo alla quota di 40 metri ed apparati di radiocomunicazione alla sommità. Essa si componeva di un fusto cilindrico in cui erano e sono inseriti i collegamenti verticali, ascensore, scala metallica di sicurezza, un vano tecnico e nella parte più alta una struttura di forma semicircolare su due livelli. Al suo interno era ubicata la zona operativa vera e propria, con al primo livello i locali e le apparecchiature di supporto e al secondo la strumentazione e gli apparati di comunicazione e controllo per effettuare le diverse operazioni di monitoraggio e gestione del traffico marittimo portuale. In particolare, la sala controllo era provvista di impianti radio VHF per ascoltare e per l'ascolto simultaneo dei canali di soccorso e di quelli utilizzati per il traffico portuale, di impianti telex, fax, di una stazione meteo-oceanografica automatica e dei dispositivi per l'identificazione remota di tutti i veicoli commerciali AIS e per la copertura radio dell'intera area portuale. La struttura, crollata, era parte di un edificio articolato su due fabbricati distinti, realizzati in acqua su pali di fondazione, destinati ad alloggi per il personale del corpo, delle capitenerie e dei servizi portuali. La disciplina locale delle operazioni di ingresso e di uscita delle navi è oggetto delle norme del codice della navigazione e delle ordinanze della locale autorità marittima. In particolare si rileva che il servizio di pilotaggio per le unità mercantili della tipologia della nave coinvolta è obbligatorio, fermo restando che per il codice della navigazione il pilota a bordo assume il ruolo e le responsabilità di un consulente tecnico per la manovra, della quale è comunque ed in ultima analisi responsabile in via esclusiva il comandante della nave. Questi può tuttavia sempre provare che il sinistro è stato causato dalle errate indicazioni rese dal pilota. Quanto al servizio di rimorchio portuale esso è facoltativo e la scelta è demandata al comandante della nave, anche in funzioni delle condizioni meteorologiche al momento della manovra e sulla base del parere del pilota del porto una volta che questa sia assalita a bordo. Nell'incidente occorso, benché risulti che due rimorchiatori operassero in ausilio alla manovra della nave Jolly Nero, alla quale erano collegati mediante appositi cavi di rimorchio, si deve ancora accertare se detti mezzi fossero solo disponibili sotto bordo o già collegati da cavi di rimorchio con la nave assistita. In base a quanto si è potuto apprendere nel corso della riunione di questa mattina dai soggetti rappresentativi delle diverse componenti delle attività marittime e pertuali, non sia ovviamente ancora in grado di definire le cause del disastro. Non si possono però escludere allo Stato diverse ragioni del sinistro. Tenete conto che le condizioni meteorologiche di ieri sera erano perfette, non c'era maltempo, non c'era vento e quindi erano le condizioni ottimali per poter svolgere in totale sicurezza le necessarie manovre. Le cause potrebbero essere la prima possibile avarie di propulsione della nave, la seconda eventuali problemi ai cavi di trazione dei rimorchiatori, eventuali difetti di accosto e o di velocità della manovra effettuata. Formulo comunque l'impegno di comunicare tempestivamente le conclusioni delle indagini amministrative in corso. Ancora una volta un doveroso commosso pensiero va agli operatori dei servizi nautici portuali deceduti e dai militari del Corpo delle Capetinerie di Porto, un corpo che oggi paga un tragico tributo umano nel quadro della missione che vede il personale della Guardia Costiera ogni giorno impegnato nel salvare vite umane e nel garantire la sicurezza del trasporto marittimo e dei nostri porti. Un tema che ho voluto approfondire è stato anche in questa riunione quello relativo al ripristino delle attività del porto. A tale proposito ho avuto assicurazione che già nel corso della mattinata sono state riprese le attività di movimentazione nell'ambito portuale. Inoltre i contatti radio e i controlli della sicurezza della navigazione sono garantiti dal porto di Savona attraverso l'apposito sistema VTS. Nella mattinata di domani giungerà un'unità di 50 metri della Capetinerie di Porto che assicurerà ulteriori collegamenti radio. Infine mi preme ricordare che nel 2012 il porto di Genova ha movimentato 6.600 navi con circa 14.000 operazioni di manovra. Dal 2008 si sono attivati per il miglioramento della intera infrastruttura portuale, banchine, dragaggi eccetera, investimenti per circa 500 milioni di euro. Dalla stessa data non si erano più verificati, come ribadito dal presidente dell'autorità portuale presente oggi all'incontro, alcun incidente. Grazie. Grazie Ministro. Prima di passare agli interventi dei rappresentanti dei gruppi vorrei dare la comunicazione sulle missioni. Quindi comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Gioacchino Alfano, Alfreder, Formisano, Franceschini, Lorenzin, Migliore, Orlando e Pisicchio sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missioni sono complessivamente 17, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Quindi passiamo adesso agli interventi dei rappresentanti dei gruppi a facoltà di parlare il deputato Lorenzo Basso. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ringrazio il Governo per aver informato immediatamente il Parlamento sul tragico incidente avvenuto ieri notte e per essere accosto sul posto per verificare l'incidente. La terribile tragedia che ha colpito il porto di Genova ci lascia sgomenti e addolorati per il pesante sacrificio, ancora una volta pagato dai lavoratori. A nome dei deputati del Partito Democratico e in particolare, mi si è permesso, dei colleghi Liguri esprimo il più profondo cordoglio ai familiari delle vittime e dei dispersi, ai feriti e a tutta la comunità portuale genovese. Vorrei ringraziare anche il Corpo dei Vigili del Fuoco e tutto il personale che si è mobilitato prontamente per prestare soccorso ai feriti, per la ricerca dei dispersi e per il doloroso recupero delle vittime. Per ogni genovese, la torre di controllo del porto è un simbolo della città che lavora e che nel mare e nel porto fonda la sua economia e la sua storia. Sapere che questo simbolo è crollato, seppellendo proprio gli uomini che garantiscono ogni giorno la sicurezza delle operazioni portuali, è un'ulteriore e profonda ferita per tutta la comunità ligure. Il Ministro ci ha relazionato dettagliatamente su quanto avvenuto. Le condizioni meteomarine di ieri notte, come abbiamo ascoltato, erano perfette e la manovra che ha causato l'incidente viene svolta 14.000 volte all'anno, 40 volte al giorno, senza che si siano mai verificati gravi problemi. Nell'intero porto di Genova avvengono in media 14 incidenti navali l'anno, uno ogni mille transiti, ma solo ieri le conseguenze sono state tanto drammatiche. Perché? Le cause di quanto è accaduto e i motivi che hanno portato a un tale inaccettabile sacrificio di vite vanno appurate il prima possibile. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, le inchieste distinte del Ministero e della Magistratura ricostruiranno la dinamica degli eventi, stabilendo se si è trattato di errore umano o di un guasto meccanico. Saranno quindi accertate le eventuali responsabilità o la natura fatale di un incidente che non ha però, lo voglio ricordare, precedenti nella storia portuale. Come oggi il Ministro si è già impegnato a fare, chiediamo fin da subito al Governo di informare il Parlamento anche sugli sviluppi dell'inchiesta. Questa tragedia è un colpo profondo al cuore stesso della città. Genova e il Porto sono intimamente legati da una storia millenaria. Città e Porto crescono insieme, lottono e soffrono insieme. Come avviene oggi e come sarà domani, giornata di lutto e di riflessione. Riflessione, però, che dobbiamo avviare prontamente anche in questa sede. Il lavoro portuale è un lavoro pericoloso. Grandi carichi vengono movimentati sulle banchine e sul mare in tempi sempre minori. La sicurezza sul lavoro è una costante preoccupazione per chi opera in porto. Come i militari della Capitaneria di Porto e il personale del Corpo Piloti, tanto duramente colpiti oggi, tutti gli operatori portuali corrono ogni giorno i rischi di un lavoro duro, difficile e pericoloso. Per questo occorre indagare a fondo per capire le cause di ogni incidente e poter così incrementare sempre di più il livello di sicurezza navale e portuale affinché simili disastri non debbano più ripetersi. Rivolgo infine un invito al Governo e alle istituzioni locali affinché non abbandonino le famiglie delle vittime, né una città e un porto già duramente provate dalle crisi. In questo frangente l'impegno del Governo deve essere solerte e concreto. Anche da questo aspetto si viede la vicinanza delle istituzioni ai cittadini. Devono essere presto garantite risorse da investire nella sicurezza della navigazione e del lavoro portuali che, dopo l'interruzione di questa mattina per solidarietà alle vittime, già oggi riprendono le loro attività per far viaggiare uomini e merci nel mondo, facendo di Genova una dei motori dell'economia nazionale di questo Paese. Ferita nel suo cuore, la nostra città saprà mostrare alle famiglie delle vittime e ai suoi lavoratori la solidarietà e la vicinanza dell'intera comunità, cui ancora una volta desidero unirmi personalmente e al nome del gruppo del Partito Democratico. Grazie. A facoltà di parlare il deputato Michele Dell'Orco, a cinque minuti. Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle si unisce al cordoglio dei parenti delle vittime e saremo al loro fianco affinché venga fatta luce il prima possibile sull'accaduto. Attendiamo che le indagini della magistratura facciano il loro corso e che si ricostruisca con più certezza l'andamento dei fatti, per capire se sia trattato di un errore umano, di avaria, ma non possiamo esimerci dal segnalare che riteniamo sia fuori luogo il primo commento delle autorità competenti che hanno dichiarato che la nave non doveva essere lì, quasi ad escludere a priori ogni tipo di responsabilità. Il gruppo Messina, tra l'altro, ha parlato di usuale manovra di uscita dal porto nel previsto bacino di evoluzione. Ma non è comunque il momento delle polemiche e ci auguriamo che questo grave incidente serva a far luce su alcuni aspetti che riguardano la navigazione e la gestione dei porti. Le autorità, secondo la legge 28 gennaio 1994, numero 84, sul riordino della legislazione in materia portuale, hanno anche compito di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti e alle condizioni di igiene del lavoro. Dato che a breve avremo in scadenza i mandati dei presidenti delle autorità portuali di La Spezia, Piombino e Augusta e che è in procinto di essere avviata l'autorità dei trasporti, come Movimento 5 Stelle pensiamo sia di primaria importanza per un largo dibattito e approfondimento sull'attività svolta dalle varie autorità competenti, l'efficacia della loro organizzazione e capire se non sia eventualmente il caso di rivederne la struttura, affinché svolgano nel miglior modo possibile anche il loro ruolo di prevenzione incidenti. D'altronde la possibilità di potenziare l'economia di un Paese è legata senz'altro alla capacità di consolidare il binomio trasporto e sicurezza, cercando di sfruttare la potenzialità derivanti dal contesto organizzativo, normativo e tecnologico. Allo stesso tempo è necessario garantire la protezione ai lavoratori portuali, che operano in un contesto complesso e pericoloso, dove spesso si riscontrano infortuni vari, ma anche nei casi più gravi decessi. Infatti il porto è ormai il terzo posto nei primati statistici degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese, dopo le costruzioni e la metallurgia. Infine sarebbe necessario riflettere sulla necessità di intervenire in materia di navigazione, rafforzando e adeguando i provvedimenti legislativi contro i rischi nelle manovre di entrata e uscita delle navi dai porti. La morte di tanti lavoratori portuali è una notizia che ha segnato tragicamente la prima giornata di lavoro della Commissione Trasporti della Camera. E proprio pensando a loro e alle loro famiglie, raddoppieremo il nostro lavoro sui temi della sicurezza, perché tali tragedie non accadano più. Grazie. Grazie Presidente. Esprimo a nome del popolo della libertà il nostro più profondo cordoglio per i lavoratori vittime della disgrazia di stanotte a Genova e la nostra più grande solidarietà le loro famiglie, con l'augurio che gli ultimi dispersi possano essere salvati e che i feriti possano al più presto guarire. È una tragedia che colpisce tutta l'Italia ed in modo particolare la mia città Genova e il suo grande porto. E se mi è permesso un attimo di parlare di me, io in questo porto ho lavorato tutta la vita, già prima lavorava mio padre e quindi conosco probabilmente anche qualcuno delle vittime e soprattutto conosco bene la situazione del porto. Siamo grati anche noi a lei, Signor Ministro, per la sua sensibilità e per essersi subito recato a Genova per dimostrare la vicinanza del Governo. E la ringrazio anche per le puntuali comunicazioni che oggi ci ha fornito e dalle quali si desume certamente delle avarie che saranno accertate, ma una grandissima fatalità. Per chi non conosce il porto di Genova, in quella zona in cui la nave poteva sbattere, per i motivi che accerteranno, è tutta una banchina deserta. Due chilometri di banchine deserte in cui le navi lì fanno retromarcia e la sfortuna è stata che è andata a colpire solo quei 20 metri in cui c'era la palazzina della Capitaneria del porto. Tutto il resto erano banchine deserte. La Magistratura accerterà, e anche il Ministero, le eventuali responsabilità o corresponsabilità. Ma io credo doveroso esprimere la mia vicinanza al Gruppo Messina, ai 1.200 dipendenti, per oltre il 95% italiani, e anche agli armatori, che io ho sentito diverse volte questa mattina e che ho sentito disperati, e conoscendoli personalmente, come persone serie e di grande esperienza, alla terza generazione di armatori italiani, ormai sono mosche bianche e sensibili ai problemi della sicurezza. E dato che vorrei evitare polemiche, come mi sembra che non ce ne siano, però lei ha rimarcato un aspetto che io vorrei ancora rimarcare.